Mi chiamo Valeria Gattari e questa sera vi voglio presentare un modo veloce, pratico ed efficace e soprattutto economico di farsi le mascherine in casa. Abbiamo bisogno di procurarci i tappetini igienici per la pipì dei cani costo 3 euro, vengono fuori 60 mascherine. Il tappetino si presenta in questo modo è fatto di un materiale idoneo in quanto ha cellulosa molto morbida dal lato dove noi appoggieremo il viso e dall'altro lato è un materiale traspirante e impermeabile ma che non lascia passare le molecole di acqua. Andremo a fare delle strisce con questo nostro tappetino. Ogni striscia verrà ritagliata a sua volta in due e a noi servirà per utilizzarne solo appunto un pezzetto così. Abbiamo bisogno di un elastico delle mutande, 30 cm di elastico sono più che sufficienti. Se non abbiamo a disposizione l'elastico delle mutande lo potremo fare anche con degli elastici normali. A questo punto prendiamo la nostra striscietta, la ripieghiamo con due pence sormontate che andremo a graffare con la semplice cucitrice, due punti di cucitrice. In questo modo lo ripetiamo nell'altro lato opposto. andiamo a dare ulteriori due punti di cucitrice e la nostra mascherina è praticamente fatta. Velocissima. Si posiziona praticamente sul viso in questo modo, l'elastico dietro la mucca ha un'aderenza ottimale. Il tessuto è molto morbido e adattabile. Se non abbiamo a disposizione l'elastico delle mutande, dicevo, possiamo utilizzare in questo modo. La procedura è più o meno simile. Le due pence, solo che l'elastico lo inseriamo in questo modo, ripieghiamo due punti di cucitrice. e questo tipo di modello, fatto con gli elastici laterali in questo modo, sarà per il tipo di mascherina non passa l'elastico dietro la mucca, ma bensì avremo l'elastico che passa dietro alle orecchie. In questo modo, anche questo è praticamente molto aderente, tessuto morbidissimo, come dicevo, mascherina, oltretutto questo è un tessuto anche profumato, perché i tappettini igienici della pipì dei cani sono anche profumati. velocissimo, 60 mascherine con 3 euro. Spero di esservi stata utile, arrivederci.